Ciao a tutti e a tutte e a tutto ciò che c'è in mezzo, oggi Michael Matthews è stato uno etrino, ha vinto la sua terza tappa al Giro d'Italia, ha tre tappe in ognuno dei tre Grand Tour, era la terza tappa, toccava tre regioni, lui quest'anno fa 33 anni, 3 è stato il numero di Michael Matthews di oggi e credo che sia stata una tappa molto godibile, soprattutto nell'ultima parte diciamo gli ultimi 40 km, l'ultima ora di corsa circa, un'oretta di grande ciclismo che per gli spettatori Rai è stata rovinata in parte dal blackout totale avvenuto a circa poco meno di 4 km alla fine se non sbaglio è durato fino ai meno 900 dal traguardo, non si sono visti i chilometri dal meno 4 al meno 1 nella diretta Rai e solo nella diretta Rai è stato un problema puramente relativo agli studi Rai perché io guardavo la gara su Discovery, Eurosport e non c'è stato assolutamente nessun problema, significa che nel feed internazionale di IMG non c'era nessun problema e invece gli spettatori Rai hanno dovuto subire un discreto disservizio proprio nella parte più importante di gara, è stata mandata la pubblicità all'improvviso ci mancava solo che tirassero fuori un vecchio episodio di Tom e Jerry e l'hanno rattoppata un po' così, siamo tornati via, ultimo chilometro, chi vincerà? Ecco, questo qui è stato il punto probabilmente più basso di questi giorni di grandissimo provincialismo all'italiana che stanno caratterizzando come sempre il giro ma non solo, gli spettatori Rai oltre a questo hanno dovuto subire a quanto mi è stato detto, visto che io nel frattempo sono andato a fare gli highlights un processo alla tappa funereo, sia oggi così come ieri, nel quale sono state messe in discussione, si è polemizzato su un sacco di argomenti ovviamente non li voglio toccare tutti, per quanto mi riguarda comunque il focus principale è quello sulla noia delle singole tappe bene, secondo me quella di oggi non è stata assolutamente una tappa noiosa, è stata una tappa di trasferimento quindi con 4 ore assolutamente inutili, ma tutti sappiamo che funziona così, tutti sapevamo che sarebbero state inutili chi le vuole guardare secondo me se lo può guardare dal chilometro zero tranquillamente e tutti gli altri si possono collegare per l'ultima ora, ora e mezza e godersi del grande ciclismo è vero, è abbastanza imbarazzante vedere quando se ne vanno solo corridori delle professional addirittura scuotono la testa perché capisco la situazione, che proprio dietro c'è un accordo generale per fregarsene della fuga e andare anche abbastanza piano nelle prime fasi di corsa, non così piano in realtà a livello di media oraria poi se vai a vedere non è stata una tappa del tutto pascolata, anche perché piano piano gli uomini dei velocisti più resistenti doveva iniziare a mettere fatica nelle gambe dei vari Jonathan Milan della situazione lo dico, secondo me queste tappe ci stanno tranquillamente il problema, come ha detto Marco Grassi nell'ottimo video commento ieri su Ciclo Web è soprattutto quando avvengono nei giorni più importanti, sabato, domenica, soprattutto la domenica secondo me ci dovrebbero essere sempre delle tappe molto accese che stuzzicano proprio la fantasia e il pubblico, che presentino delle particolarità, dei punti di richiamo forti non la pascolata di ieri sicuramente tanto quanto le tappe di trasferimento in altri giorni a settimana come oggi che è lunedì per me ci stanno tranquillamente, magari si potrebbe togliere qualche chilometro cambia veramente così tanto? Non lo so sinceramente, non lo so per me sì, ci può stare di togliere qualche chilometro ma non la vedo come una cosa così fondamentale quello che è fondamentale per me è un altro aspetto è raccontare bene e far venire hype e far gasare la gente durante quegli ultimi 40 chilometri se tu ti gasi per 40 chilometri non ti interessa se la tappa successiva di 200 sarà noiosa per 150 sai che se ti puoi vedere gli ultimi 50 e goderteli bene ci sarà sempre del fuoco sarà una bellissima esperienza comunque e comunque l'audience di tutte le persone che si vogliono godere i paesaggi e che non vogliono perdersi un minuto di corsa come me ce l'avrai sempre secondo me detto ciò, per contrastare quest'idea secondo me assurda che oggi sia stata una tappa noiosa ho provato a raccogliere un breve ma non troppo elenco dei temi che sono usciti uno dietro l'altro come se fosse un'intera stagione di una serie televisiva tutta concentrata in un'ora è successa un sacco di roba e ora io ve la leggo e ditemi voi se con questi elementi a disposizione non si può portare un grande racconto appassionante entusiasmante al pubblico di un gran tour ha iniziato a tirare la track, stava piovendo e allora abbiamo capito che poco prima della salita Mats Pedersen stava bene, Mats Pedersen voleva fare la tappa e hanno iniziato a fare un ritmo molto sostenuto infatti lì cosa nasce subito? l'incertezza su chi si sarebbe staccato o meno e questo è subito un ingrediente di televisibilità si stacca poi Jonathan Milan, si iniziano a staccare i velocisti su Milan se ne può parlare tantissimo in quel momento ovviamente anche lui forse aveva delle speranze di reggere oggi invece si stacca subito la Ciclamino la mantiene? molto probabilmente sì perché aveva preso i tre punti in precedenza ma forse no perché se vince Groves e così via è un momento importante comunque si stacca quello che probabilmente la maggior parte delle squadre davanti stava sperando di staccare quindi come cambia lì la situazione? tira Filippo Zana, Filippo Zana campione italiano sta facendo delle grandissime cose da aggregare nell'ultimo periodo speriamo possa avere poi più libertà nel corso del giro perché ha fatto vedere un gambone atomico oggi il gruppo è stato distrutto dalla sua azione lì nasce la seconda domanda importante chi si è staccato? si è staccato magari qualche big? può essere andiamo a vedere, cerchiamo di capire ogni piccola inquadratura ci può dare degli elementi di interesse in quel momento a quel punto siamo verso la fine del GPM il gruppo è già ridottissimo e c'è stato l'attacco di Thibaut Pinot l'attacco di Thibaut Pinot al suo ultimo giro d'Italia già alla terza tappa si fa vedere per la maglia blu quindi tematica che esce di prepotenza una maglia blu finalmente dopo non so quanti anni attaccata da un uomo forte che vuol fare anche classifica da subito sfacciatamente è una cosa molto rara ormai nel ciclismo se le giocano quasi sempre degli uomini minori nella prima settimana quella maglia e invece Thibaut Pinot fa capolino dal gruppo grande notizia, sta bene lo segue Santiago Buitrago e tanto quanto Pinot a fine tappa dirà in realtà io sono più interessato alla classifica che alla maglia blu penso che quello di Buitrago tanto quanto c'è stato un segnale molto interessante per quanto riguarda questa maglia a quel punto c'è stata la breve discesa bagnata e anche lì bisognava capire appunto chi sarebbe riuscito a rientrare magari oppure chi si era staccato altro GPM parte subito ripido interessante era molto più duro di quello che sembrava dalla mappa all'inizio torna Zana tira di nuovo devastante Filippo Zana ha detto Filippo Ganna oggi per quante trenate ha tirato e poi a quel punto la grande notizia si stacca Matt Pedersen uno dei corridori più forti del mondo si è staccato esattamente sul suo terreno dopo aver fatto tirare la sua squadra e con un clima che gli si addice particolarmente che ama particolarmente quindi ovviamente tantissima discussione tantissima attesa riuscirà a rientrare di quanto lo staccano ah ma allora a questo punto sono più favoriti Groves e Matthews che sono rimasti lì a circolare tranquillamente nelle prime posizioni o a metà gruppo rispetto a uno che si stacca durante il secondo strappettino di fila ma a quel punto Mazza ha avuto una squadra fantastica che gli è stata intorno molto molto bene li sono organizzati subito li ho trovati veramente fantastici i trex e Gaffredo oggi continuiamo con i miei appunti che non finiscono più Pinot conferma la maglia blu alla fine del secondo GPM quindi Thibaut Pinot ha una maglia al giro meraviglia discesa bagnata successiva drama a Mazzi Sepkus che inizia a fare delle follie totali lì c'era da parlarne per ore riproporre replay su replay una cosa che stuzzica sicuramente l'occhio ti dà anche quel brivido un pochino che cerchi quando guardi lo sport a volte non sempre ma ci sta tranquillamente e con scritto sotto grande come una casa ha sottolineato cinque volte don't try this at home Sepkus sei un pazzo folle sgravato pazzinculo furioso ma cosa stai facendo beh è decisamente una cosa televisiva un'immagine del genere continuiamo continuiamo la track si riorganizza punto e sta tornando sotto poi cade Seri uno degli aiutanti principali di quello che al momento ha la maglia rosa insieme ad altri due si ferma Joao Almeida che al momento è terzo in classifica uno dei principali pretendenti alla maglia rosa è un evento importante infatti a quel punto torna Zana tira di nuovo si stacca McNulty per andare a riprendere Almeida ed aiutarlo e poi tornano sotto a quel punto Sepkus cade pure altro evento che lo toglie totalmente di classifica anche se sappiamo che non è un uomo che fa classifica solitamente ma non gli dispiace rimanerci eventualmente sicuramente una caduta è un ennesimo evento importante per questo Giro d'Italia l'ennesimo problema che arriva la Jumbo Visma una squadra totalmente dissimata quando fino a una settimana fa sembrava dovesse spaccare tutto e dominare in sabate come hanno fatto alle classiche a quel punto abbiamo visto questa rincorsa divertentissima tra l'altro dell'Archea senza molto costrutto si è attaccato anche Court e vabbè preparazione finale ultimi chilometri a quel punto si è spenta la diretta della Rai e questo certamente non avrebbero potuto raccontarlo e infine la grande sfida fra i tre favoriti del pretappa Michael Matthews vincitore appunto per ora di otto tappe nei Grand Tour grande campione Mats Pedersen ex campione del mondo ovviamente che era tornato in gruppo e Caden Groves che c'era sempre stato come un califo anche se la sua Alpesin ha avuto poi dei problemi nel finale non si è capito bene dove sia stato il problema dell'Alpesin perché c'era Stefano Oldani davanti mentre Groves è arrivato a dietro Oldani ha mezzo cercato di fare una volata a mezzo di aiutarlo poi si è spostato per farlo arrivare terzo non si è capito anche quello è stata una cosa discretamente interessante al mio punto di vista secondo me Groves era il favorito numero uno e lui stesso si è lamentato di questa cosa lasciando capire anche che ci saranno dei bei discorsi poi nel Pullman beh ennesimo tema in discussione e poi ovviamente la volata emozionante con un finale secondo me disegnato molto bene a parte forse quella curva infinita nell'ultimo chilometro che ha fatto smettere di pedalare tutti e si sono dovuti poi ricomporre per gli ultimi 300 metri ma comunque bellissimo secondo me il finale e poi a quel punto c'era da fare la conta dei saltati dei minuti presi magari non aspettando un'ora come si fa aspettare Zero Italia facendo scorrere i nomi cinque alla volta con un click ogni cinque nomi come se fosse un sito internet del 1997 ma siamo nel 2023 e le cose si possono raccontare cercando di cogliere tutti gli aspetti che possono interessare le persone gli infiniti spunti tecnici che nascono da un finale del genere con la pioggia con tanto terreno diverso salita discesa dolce non dolce pianura salato quello che volete c'era in questa tappa lotta fra uomini di classifica velocisti resistenti e non ho citato me lo sono perso in mezzo che era uno dei punti focali tra l'altro è l'unico che ho perso penso cioè lo sprint intermedio fra Remco e Venepool e Primo Sroglic due dei più grandi campioni di questa epoca gente che fa muovere le folle di tutto il mondo bellissimo anche se sicuramente Rogla ha un po' lasciato fare Remco gli ha detto tu sfogati sfogati che poi io arrivo pian piano in terza settimana con un fare squalesco che ho imparato andando a visitare casa di Vincenzo Nibali per vedere il suo palmarès e ok io ho praticamente finito il fiato solo per raccontare molto riassunto molto brevemente quello che è successo nel finale di questa ripeto secondo me bellissima tappa per niente noiosa quindi forse in Rai dovrebbero curarsi di offrire il servizio migliore possibile soprattutto evitando clamorose gaff e clamorosi schermi neri nel 2023 nel finale di una tappa di un giro Italia che si vede in tutto il mondo e proprio gli italiani non riescono a vedere beh io mi preoccuperei appunto più di questo di raccontarlo bene di preoccuparmi di far arrivare bene il messaggio di quanto entusiasmo si possa avere intorno a una corsa stupenda come il giro Italia non starei lì a lamentarmi di quanto sia noiosa questa però è solo la mia opinione totalmente dibattibile sono le idee di un povero uomo che critica dal divano fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate della polemica di oggi di questa tappa di questo finale di come bisognerebbe decidere i chilometraggi le località di partenza d'arrivo di tutto quello che volete questo spazio è libero questo è pietre iscrivetevi ovviamente se non l'avete già fatto io vi do un saluto vi do appuntamento a domani dopo la fugona di domani al lago Laceno ci vediamo nei prossimi video ciao